Consiglio comunale straordinario, quello indetto dal Comune di Montopoli di Sabina, per l'approvazione del bilancio di previsione 2014. Ultima chiamata per l'amministrazione targata Antimo Grilli, che domani approverà una serie di ordini del giorno correlati proprio all'approvazione del bilancio. Tra questi la conferma dell'aliquota IRPEF, dell'Atari Tributo Servizio Rifiuti, dei costi dei servizi a domanda individuale, dei piani di zona per l'edilizia scolastica ed infine l'approvazione di incarichi e collaborazioni. Andiamo ad approvare un bilancio mantenendo inalterati i parametri rispetto all'anno precedente e il commento del primo cittadino Grilli. Tra i punti dell'ordine del giorno anche l'approvazione della convenzione tra il Comune di Forano e quello di Montopoli per la nomina di un segretario generale in forma associata. Sia il Comune di Forano sia quello di Montopoli erano gli unici a non avere un segretario generale ed essere costretti a rivolgersi a segretari di altri comuni della bassa Sabina, specifica Grilli. Finalmente abbiamo raggiunto un accordo per condividere lo stesso segretario, una figura professionale importante che garantisce maggiore supporto agli uffici del Comune. La figura sarà presente già a partire da novembre.